Mario, mesi non facili, lontano dal campo, poi sta rientrando per un piano, sei rientrato e in due partite sono arrivati subito due gol, pesanti anche. Sì, quello è importante per me, che il ritmo con i compagni arriva, perché sono quasi un giocatore nuovo qui, ero cinque mesi fuori di calcio, quella è stata una cosa brutta per me, ma adesso sto tornando e sono contento per i due gol, ma contento che abbiamo fatto un buon risultato lì a Torino e oggi abbiamo vinto una partita importante per noi, perché le ultime cinque partite nella Liga, nella Serie A, abbiamo perso tanti punti, per quello sono contento. Una Frentina quindi in crescita, hai detto te, Torino, una buona prestazione e oggi tre punti importanti in vista anche della sfida del Napoli. Sì, la Serie A è lunga, sono dieci partite da giocare, sappiamo che Napoli è dieci punti davanti a noi, ma in calcio tutto è possibile, dobbiamo continuare da vincere i partiti, vediamo, è difficile ma non è impossibile. È giusto continuare a credici. Ho una piccola domanda, una curiosità, cosa ti ha detto Agazzi a fine partita? Si è forse scusato per l'andata? Una cosa bella perché lui mi ha detto che stai contento per me perché veramente l'ho fatto, come si dice, dispiaceva tanto che le tue infortuni. Sì, con il contrasto con lui, per quello è stato un bel gesto, non è la colpa sua, ma bene. Ho un'altra curiosità, come si fa a impariare così bene l'italiano in pochi mesi? No, mi sembra che non parlo, ma devo continuare perché voglio dire qualcosa altro, non mi esce le parole, ma aspettiamo un po'. Senti, giovedì ti aspetti un franchi pieno? Spero, spero che sì.